Sono qui. Eh sì, lo vedo. Sei andata dai uomini? Non l'ho avuto molto tempo, no. No, giuro. Tu devi fermarli e dire loro di costruire una chiesa... No! No? No, io non faccio queste cose. Non costruisco chiese. Mi dispiace. Ma devi, è importante. Ho detto di no. Se è no, è no. Che fai? Insisti, come i bambini. Com'è no? Senti, io non lo so che cosa sei e perché ci sei, ma... Davvero io... Te lo giuro. Non ti ho chiamato. E sai che magari... Magari ti sei sbagliata. Dico, magari tu volevi andare nella casa a fianco, no? È così. No. Sono venuta per te. Solo per te. Dio, che spiega. Dai, Lucia, vieni. Andiamo insieme a fermarli. Sì, sì, certo, come no. Arrivo, eh. Aspetta. Ma che giorno è oggi? 13, 17, cavo. Tutti a me. Tutti a me. Tutti a me. Tutti a me. Lasciami. 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 Andiamo a costruire la chiesa? No. Non si può. Perché? Perché ci sono i piani regolatori, un sacco di normative. Insomma, non è che le cose si fanno così a caso. Stai impazzendo. Non capisco. Ma non capisci mai. Quando appaio è tipo di edificare una chiesa, l'hanno sempre fatto. E si vede che questa volta gli è andata male.